ben tornate a tutte a creando con mari oggi sono emozionatissima perché sto per iniziare un progetto a cui tengo tantissimo e con questa lana che è spettacolare il madesimo non mi aspettavo di trovare una lana così soffice morbida e soprattutto che non pizzica è veramente anche lavorarla è un piacere io ho fatto il mio campione poi ve lo mostro ed è la madesimo 3.0 la silk della silk e vi dico subito le caratteristiche metto gli occhiali e a un 25 per cento alpaca 27 per cento di lana e questo 48 per cento di acrilico che gli dà questa resistenza e i gomitoli sono da 150 grammi e hanno tre in 300 metri quindi rendono molto bene per esempio qui il produttore consiglia un gomitolone per un scialle un bacto e due per un una maglia io vi consiglio comunque in questo caso di prendere tre non ho ancora i grammi che ho utilizzato poi ve li scriverò nella descrizione come sempre vi lascerò anche il link del filato perché ci sono anche altri colori un consiglio dei ferri e uncinetto sei e mezzo sette e mezzo ma vi anticipo già che io andrò utilizzare lotto il colore e il shade quindi andate sul sito scegliete il vostro colore e iniziamo subito ahimè con i calcoli qui c'è già uno schema di quello che andremo a fare è un scaldacuore cardigan scaldacuore con una cintura che vi deve fare un paio di giri del corpo quindi scegliete voi la lunghezza io la farò di due metri e mezzo circa la voglio bella lunga e e poi da questa cintura qui noi inizieremo a lavorare dal basso verso l'altro tutte e tre le parti quindi la parte davanti destra la parte davanti sinistra e il corpo qui abbiamo lo scalfo per le ascelle e quando ci arriveremo vi farò vedere verrà av quindi proprio a scaldacuore giustamente quindi avremo delle diminuzioni da fare praticamente ad ogni giro e ora vi dico come fare per per il tutto e vi dico subito che questo è il mio campione scusate sono castrato ok questo è il mio campione io ho fatto venti catenelle e ho lavorato solo quattro giri del punto perché comunque il punto all'inizio soprattutto si sviluppa in due giri ma hanno fatti quattro e vi posso dire che in venti catenelle con venti catenelle spero si veda nella telecamera io ho ottenuto 22 cm ok dal di qui partono tutti i miei calcoli allora innanzitutto quello che dovete fare è scoprire quante catenelle poi lavorerete dopo la cintura quindi anche perché la dovrete lavorare al centro e vi farò vedere come fare il calcolo per trovare il centro ma è molto veloce tutto il resto vi potrà sembrare complicato ma se qui seguite queste istruzioni è semplicissimo allora in venti catenelle abbiamo detto che ci sono 22 centimetri per il corpo per una taglia s s taglia s per il corpo e comunque è una taglia s queste sono le mie misure ma sostituendo la mia misura ai calcoli della vostra misura potete fare qualunque taglia anche la mezza taglia e che se non è una m piena non è neanche una l una via di mezzo basta che prendete la misura calcolando facendo i calcoli che io sto per fare con voi adesso sostituendo semplicemente la misura mia immediatamente avrete le vostre catenelle l'unico diciamo l'unica costante che dovete avere nel fare i calcoli e di considerare che dovete avere nel montaggio soprattutto del del corpo un multiplo di 36 e alla fine dovete montare due carri catenelle in più quindi 6 6 6 6 e alla fine due in più ok quindi sei più due questo è il boss dovete considerare questo quando farete i calcoli quindi io per il corpo decido di utilizzare 102 centimetri ok quindi quello che andrò a fare 20 non vi dico la proporzione però ve l'ho già detta in tanti video vi dico solo il calcolo 20 diviso 22 il risultato per 102 20 diviso 22 per 102 mi viene 92 virgola 72 siccome 90 e multiplo di 6 io caricherò 92 catenelle che sono le 90 più le due quindi 90 e multiplo di 6 più le due mi da 92 catenelle di questa è la mia partenza io che lavorerò quindi di queste 230 catenelle che mi danno i 250 centimetri della cintura le 92 centrali come scopro le 92 centrali semplice 230 meno 92 fa 138 diviso 2 io devo lasciare 69 catenelle da questa parte catenelle e 69 catenelle da questa parte lasciando queste 69 69 io avrò centrale 92 catenelle cominciamo subito il progetto iniziamo facendo le catenelle per la cintura quindi io come vi avevo detto ne farò 230 la voglio bella lunga 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 potete farla anche più piccola semplicemente rimanendo morbidi o utilizzando un uncinetto di mezzo numero più grande un numero più grande vedete voi fate le vostre catenelle che siano giuste proprio perché dopo noi dobbiamo andare a caricare il lavoro vero e proprio come vi avevo detto in questo caso lasciando 69 da una parte 69 dall'altra per avere 92 punti quindi che fate le vostre il vostro numero di catenelle caricate le mie 230 catenelle io ora vado a lavorare un giro di punto basso però in un modo differente dal solito perché perché essendo questa la cintura voglio un bordo di questa cintura in basso che sia bello definito è un modo bello di far venire il la parte iniziale bella rifinita è questo allora faccio una catenella liberi di non farlo se non vi riesce giro il lavoro invece di lavorare la catenella in questo modo ricordatevi di fare la catenella aggiuntiva per girare il lavoro e di lavorare la penultima dall'uncinetto invece di entrare così io giro la catenella e dentro in questo filo che trovo dietro ok non faccio punto basso ovviamente tutti i punti così quindi qua c'è il filino lavoro punto basso poi con questo filato che bello grosso se lo avete lavoro avete lavorato la catenella come vi avevo detto bella leggera non dovreste avere nessun problema vedete il filo è qui punto basso questa è la catenella sul davanti dietro abbiamo questo filo entrate vedete mi rimane la catenella così e avete già la finitura della vostra cintura senza doverla poi ripassare magari a fine lavoro se questo metodo vi sembra scomodo potete lavorare il giro di punto basso come siete abituati a farlo quindi fate tutte le catenelle della cintura ripassate le tutte a punto basso e ci vediamo alla fine lavorato tutto il primo giro a punto basso come vi ho fatto vedere il risultato è questo vedete quello che avete sopra avete sotto la catenella rimane ben visibile definita non avete bisogno poi di rifinirlo adesso io lavorerò tre o quattro giri ancora non ho deciso vedrò come rende il punto per l'altezza della cintura che io desidero quindi la deciderò strada facendo giusto la telecamera così sono sicura che mi piacerà davvero quindi non vi dico 4 5 3 perché saranno proprio questi i giri che andrò a fare o tre o quattro o cinque ma il punto sarà questo innanzitutto per girare il lavoro facciamo una catenella giriamo il lavoro e ora lavoriamo il punto elastico che sicuramente conoscete già me lo faccio rivedere della catenella andiamo a lavorare soltanto la parte più esterna la questa parte qui quindi entro nella catenella invece di entrare come fare il punto basso normalmente in questo modo prendendo entrambi i fili della catenella entrò nel centro e mi aggancio il filo e faccio il punto basso di lavoro in costa retro e faccio un giro completo e quando avete finito quindi l'altezza della vostra cintura potete tranquillamente fare il nodino e tagliare il filo perché come vi ho fatto vedere all'inizio andremo poi ad agganciarci contando 69 catenelle per avere i nostri 92 punti di lavorazione continuate in questo modo per i giri di cui avete bisogno ricordatevi di mettere marca punti e ci vediamo alla fine della lavorazione della cintura che partiamo con la nostra lavorazione vera e propria ed ecco come si presenta la cintura dopo sei giri io ne ho fatti sei di punto elastico e ho già messo i miei marcatori come vi avevo detto quindi adesso quello che dovete fare fatto l'ultimo punto della vostra cintura tranquillamente potete tagliare il filo tagliato il filo dopo aver messo i vostri marcatori prima vi ho detto di partire se vi dava come me 69 i capelli punti da lasciare di metterlo nel settantesimo è sbagliato dovete metterlo proprio nel 69esimo altrimenti poi vi trovate con un punto in più da questo lato quindi per essere centrale esattamente centrale dovete metterlo nella 69esima nella 69esima catenella ora iniziamo la lavorazione del motivo poi di tutto il cardigan di tutto lo scaldacuore e come vi avevo detto praticamente vedete deve già essendo uno scaldacuore con questa forma v dobbiamo partire subito noi ora partiremo di qua dobbiamo partire subito con le diminuzioni che sono diminuzioni che poi faremo fino a raggiungere la l'altezza desiderata da ognuno di noi vi faccio vedere i giri che poi dovete ripetere se avete bisogno di un'altezza superiore alla mia e poi e nient'altro allora innanzitutto prendiamo il filo e lo riagganciamo nel 69esimo punto ok facciamo la catenella con la doppia codina la prima e poi altre due lasciando indietro l'altra codina 1 e 2 fatte queste 3 catenelle entrate subito nel punto successivo per fare un punto alto chiudete le prime due asole e tenetene due sull'uncinetto quindi fate un punto alto non chiuso poi entrate nella successiva nel successivo punto e fate la stessa cosa quindi chiudete due asole e ne avete ne avete tre sull'uncinetto ancora prendete il filo prossimo punto chiudo solo le prime due asole e ne ho quattro sull'uncinetto a questo punto raccolgo il filo chiudo tutto insieme e faccio una catenella per bloccare abbiamo fatto tre punti alti chiusi insieme filo sull'uncinetto lasciate un punto quindi questo punto non lo lavorate e nel punto successivo fate un punto alto normale una catenella nello stesso punto ancora un punto alto una catenella e ancora un punto alto filo sull'uncinetto lasciate un punto e entrate fate un punto alto chiuso a metà filo sull'uncinetto andate nel punto successivo punto alto chiuso a metà filo sull'uncinetto andate nel punto successivo e fate un altro punto alto chiuso a metà con quattro asole sull'uncinetto chiudete tutto insieme e catenella per bloccare filo sull'uncinetto lasciate un punto e ora dobbiamo fare i tre punti alti con la catenella nello stesso punto catenella punto alto catenella e punto alto e tutto questo giro continua in questo modo quindi tre punti alti chiusi a metà e poi chiusi tutti insieme quindi tre punti alti chiusi insieme saltate una catenella e nel punto successivo tre punti alti separati da una catenella nello stesso punto vi faccio rivedere salto un punto punto alto chiuso a metà filo sull'uncinetto punto successivo punto alto chiuso a metà con quattro asole sull'uncinetto chiudete tutto insieme è fatto una catenella e il punto successivo sempre saltando un punto di base è quello del tutte nello stesso punto quindi un punto alto catenella un punto alto nello stesso punto catenella e terzo punto alto nello stesso punto continuate in questo modo fino alla fine vi faccio vedere poi come chiudere il lavoro fatto l'ultimo punto che se avete lavorato bene deve essere le tre maglie alte nello stesso punto separate da una catenella saltate una catenella filo sull'uncinetto e punto alto dove avete l'altro marcatore adesso ripartiamo per il prossimo giro con 3 catenelle filo sull'uncinetto e ora dobbiamo fare la diminuzione perché noi continueremo a fare diminuzioni perché come avevo fatto vedere nei due lati davanti va in diagonale in modo tale da avere questa forma v gli abbiamo bisogno di fare le diminuzioni ogni giro quindi saltiamo la parte della catenella e la maglia alta entriamo nella maglia alta centrale facciamo un punto alto non chiuso filo sull'uncinetto entrate nella successiva catenella proprio nel foro generato dalla catenella punto alto non chiuso per il prima per la prima appunto essendo le 3 catenelle avete tre asole sull'uncinetto chiudete tutto insieme e catenella prossimo punto abbiamo nel giro precedente le tre al maglie alte chiuse insieme quindi entriamo proprio nel centro qui ok di se avete come tre asoline sull'uncinetto e fate un punto alto catenella un punto alto catenella un punto alto quindi alternate i motivi dove avete le tre maglie alte chiuse insieme farete le tre maglie alte tutte nello stesso punto e dove abbiamo le tre maglie alte separate da una catenella facciamo così filo sull'uncinetto entriamo nella prima catenella e facciamo punto alto non chiuso filo sull'uncinetto entrate nella maglia alta centrale punto alto non chiuso o chiuso a metà filo sull'uncinetto altra catenella punto alto chiuso a metà 4 asole sull'uncinetto chiudete tutto insieme e catenella si alternano i punti praticamente quindi filo sull'uncinetto qui abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme io entro proprio nel centro qui e punto alto catenella voglio entrare bene per non fare il buco punto alto catenella punto alto e andate avanti così tutto il giro qui avete le tre maglie alte separate da una catenella entrate nella catenella punto alto chiuso a metà entrate nel punto alto centrale punto alto chiuso a metà entrate nella catenella punto scusate punto alto chiuso a metà e vabbè questo scappa e volevo stare a favore di telecamera ma ok punto a metà quattro asole chiudo tutto insieme catenella e andate avanti così qui avete le maglie alte chiuse insieme aiutatevi con l'uncinetto entrate e fate maglia alta catenella maglia catenella e maglia alta tutto sopra le tre maglie alte chiuse insieme e il giro va avanti così questo è l'effetto arrivata all'ultimo punto lo realizzo quindi abbiamo le tre maglie alte abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme mannaggia ok le chiudiamo e ora dovremmo fare per coerenza di di punto le le tre maglie alte tutte nello stesso punto invece facciamo questo praticamente entriamo nel centro faccio la prima maglia alta la catenella poi faccio un'altra maglia alta nello stesso punto e senza chiuderla così entro nella terza catenella e chiudo tutto insieme scusate e chiudo tutto insieme e così abbiamo dato questa inclinazione al punto ve lo faccio rivedere perché forse sono stata un po confusa allora qui dobbiamo fare le tre maglie alte separate da una catenella perché come vedete abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme sotto quindi facciamo la prima maglia alta la catenella poi entriamo facciamo una maglia alta non chiusa cioè chiusa per metà filo sull'uncinetto terza catenella chiudo per metà anche questa e chiudo le tre asole insieme e diamo l'inclinazione al lavoro ora ricominciamo il lavoro con 3 catenelle giriamo saltiamo totalmente questa parte qui entriamo nel prossimo punto e facciamo maglia alta catenella maglia alta catenella e maglia alta come vedete adesso il lavoro è tutto uguale nel senso che ora dove avete le tre maglie alte chiuse insieme dovete fare maglia alta catenella maglia alta catenella e maglia alta quindi le tre maglie alte separate da una catenella e dove avete il ventaglio con le maglie alte separate dalla catenella le tre maglie alte chiuse insieme quello che cambia soltanto l'inizio alla fine dove andremo a fare queste diminuzioni ok perché abbiamo bisogno di dare questa inclinazione al nostro lavoro alla fine del giro dobbiamo dare l'inclinazione quindi dopo aver fatto le tre maglie alte chiuse insieme filo sull'uncinetto entriamo nella terza catenella del giro precedente e facciamo un punto alto filo sull'uncinetto è un altro punto alto due punti alti ora ricominciamo il giro con 3 catenelle giriamo il lavoro filo sull'uncinetto entrate nel nelle tre maglie alte chiuse insieme e fate una maglia alta una catenella e una maglia alta questo è l'inizio del giro poi fate il giro esattamente come l'abbiamo fatto fino ad ora quindi a questo punto dovete le tre maglie alte chiuse insieme perché abbiamo sotto il ventaglio e qui facciamo maglia alta catenella maglia alta catenella esattamente come negli altri quindi come vedete molto semplice l'unica cosa che di cui dovete fare attenzione l'inizio alla fine del giro perché dobbiamo dare l'inclinazione alla maglia ci vediamo alla fine di questo giro che vi faccio vedere come come finire fatte le ultime tre maglie alte chiuse insieme già che nel giro precedente abbiamo come primo punto il ventaglio filo sull'uncinetto entro nella terza catenella e faccio un punto alto semplicemente finisco il lavoro così ok adesso iniziamo il quinto giro io vi farò vedere ancora il quinto il sesto dopodiché potete andare avanti da soli perché saranno tutte ripetizioni adesso ricominciamo il lavoro con una due tre quattro catenelle quindi il quinto giro comincia con quattro catenelle giro il lavoro filo sull'uncinetto e dove abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme andiamo a fare un punto alto uno solo un punto alto poi entriamo nel nostro punto successivo facciamo le tre maglie alte chiuse insieme perché il punto appunto lo richiede libero un punto il filo ok chiudo tutto insieme e vado avanti vedete e gli diamo questa questa inclinazione vedete come sta venendo e ora andate avanti fino alla fine e vi faccio vedere poi come terminare anche questo quinto giro arrivati al penultimo punto del quinto giro lavorate nelle tre maglie alte chiuse insieme le tre maglie alte separate da una catenella normalmente quindi dovete proprio fare il punto normale che avete seguito fino adesso e poi dove avete questo questa situazione quindi maglia alta catenella maglia alta e maglia alta fate una maglia alta non chiusa nella prima catenella una maglia alta non chiusa nella maglia alta e una maglia alta non chiusa nella terza catenella ok invece di entrare nella catenella dovete entrare perché non c'è la catenella effettivamente dovete fare le tre maglie alte chiuse insieme utilizzando come ultimo punto dove agganciarvi la terza catenella chiudete tutto insieme girate il lavoro e ora per il sesto giro è come se dovessimo fare il primo però essendo noi partiti comunque da quello che non era il punto effettivo ma da una base diciamo di punti bassi ve lo faccio vedere e dopo il sesto giro voi dovete riprendere dal giusto un attimo la telecamera dovete riprendere dal secondo quindi questo considerate come se fosse il primo giro di ripetizione e cosa dovete fare semplicemente sopra le maglie alte chiuse insieme fate 3 catenelle una avevamo già fatta per chiudere lavoro ne facciamo altre due non fatene tre perché poi vi si allunga troppo il punto e nello stesso punto esattamente qui da dove escono le 3 catenelle quindi dalle maglie alte chiuse insieme fate un'altra maglia alta a questo punto partite normalmente nel punto quindi 3 maglie alte chiuse insieme e anche se la chiusura del punto quindi del giro è uguale al primo giro che abbiamo fatto insieme qui io ve lo faccio ve lo mostro così non avete dubbi da questo giro in poi è come se voi aveste fatto il primo di ripetizione dovete tornare indietro nel video se non ve lo ricordate guardare dal secondo ci vediamo alla fine del giro ora lavorate normalmente come sapete che si lavora il punto quindi dove avete le tre maglie alte chiuse insieme fate punto alto catenella punto alto catenella e punto alto e dove avete il ventaglio fate le tre maglie alte chiuse insieme ci vediamo alla fine del del giro che vi faccio vedere come concludere vi do un paio di indicazioni in più e proprio come nel primo giro quindi la chiusura del primo giro anche di questo sesto una volta fatte le tre maglie alte separate da una catenella andiamo a chiudere il giro semplicemente con un punto alto nella terza catenella e non nella quarta ricordatevi che il quinto l'abbiamo iniziato con quattro quindi questa è la quarta dobbiamo chiudere nella terza lasciando una catenella e a questo punto siete pronte per andare avanti da sole perché dopo il sesto giro ripartite dal secondo ripartite dal secondo giro e continuate fino a che non raggiungete l'altezza desiderata ovviamente continuando a ripetere i giri con le diminuzioni avrete questa inclinatura che prenderà la maglia che sarà la parte appunto davanti destra e la parte davanti sinistra andate avanti per appunto l'altezza fino allo scalfo delle maniche di cui avete bisogno io farò un circa 20 centimetri voi fermatevi al punto in cui arrivate allo scalfo delle maniche quindi 18 20 centimetri circa per una s magari 2 3 centimetri più per una m o per chi come magari alcuna di voi si è per più alte hanno bisogno di più centimetri ci vediamo poi appunto per dividere il lavoro come vi faccio vedere qui per arrivare appunto a dividere le tre parti ci vediamo eccoci arrivati ad un punto un po particolare allora adesso noi praticamente siamo qui a questo punto dobbiamo iniziare a dividere per le maniche e per le due parti davanti e la spalla io cosa ho fatto ho misurato 40 centimetri per la schiena 9 centimetri e 9 centimetri ho lasciato per le maniche e ho lasciato 14 centimetri da una parte 14 centimetri dall'altra per il davanti ovviamente questa è una s piccolina perché io di circonferenza faccio circa 82 85 voi regolatevi in base alla vostra circonferenza in base ai punti che avete caricato e in base a quello in base ai centimetri dividete appunto considerando la parte delle spalle cosa dovete misurare vi dovete misurare questa parte qui dietro adesso cosa ho fatto io ho già assegnato tutte le varie parti 14 centimetri per il davanti di sinistro i 9 centimetri 40 centimetri per la schiena 9 centimetri per le maniche spero non siano pochi io le braccia strette piccoline quindi ho voluto lasciare 9 se avete delle braccia ripeto un pochino muscoloso e lasciato un pochino di più e 14 per la parte davanti e ovviamente dobbiamo proseguire ma come proseguiremo proseguiremo a pezzi iniziamo da questa parte cioè da questa parte scusate dove ancora abbiamo il filo e ora vi faccio vedere come faremo ovviamente se qualcosa non vi fosse chiaro scrivetemelo nei commenti io cercherò di aiutarvi nel modo più opportuno e sappiate che io rispondo sempre ai commenti quindi tranquille scrivetemi pure che troviamo insieme una soluzione capisco che il tema delle misure è spesso una difficoltà per molte ma ci si può arrivare non vi preoccupate quindi considerate sempre che la parte più importante è questa misura qui la schiena misurate vela a vedete se può andar bene la misura che voi volete lasciare dopodiché andate avanti con il resto allora io avevo già fatto e registrato la parte vediamo destra ok o sinistra quello che è tanto alla fine è reversibile il problema è che mentre registravo è successo di tutto cani che abbaiavano aerei mio marito è iniziato a starnutire una roba fuori dal normale io ho continuato a registrare lo stesso però mi rendo conto che probabilmente poi effettivamente la l'audio ne può risentire anche la spiegazione perché ovviamente io mi distraevo sono abbastanza umana anche troppo quindi vi faccio vedere questa parte qui dove appunto forse meglio perché dobbiamo anche riagganciare il filo io il punto in cui era arrivata era praticamente quello che ripartiva con le vi dico subito che ripartiva con le due maglie alte quindi la catenella e la maglia alta che era il sesto giro e ovviamente anche da questa parte sono messa allo stesso modo però da questa parte qui io la le 3 catenelle e la maglia alta quindi devo praticamente cominciare da questa parte proprio per evitare che il lavoro non sia coerente quindi io comincerò dalla parte che ovviamente andrà dritta perché sarà il bordo manica e terminerò nella parte poi che deve essere sempre in diagonale no perché comunque questa parte deve continuare a inclinarsi quindi il filo dove lo aggancio lo aggancio proprio qui dove ho il marcatore e vi dico subito che nella parte dove voi avete appunto il bordo della manica dovrete chiudere e aprire il lavoro sempre nello stesso modo con cioè uno io faccio ovviamente la cat e vedete i cani hanno ricominciato io penso che i miei video senza i cani che abbaiano ormai non si possono più tre catenelle ok giro il lavoro mi riprendo anche la codina faccio le 3 catenelle e punto alto nello stesso punto catenella scusate quindi sono 4 catenelle e punto alto nello stesso punto questo è il l'inizio poi lavoro esattamente come il motivo lo conosciamo già quindi dove ho le tre maglie alte chiuse insieme faccio maglia alta catenella maglia alta catenella e dove ho il ventaglio faccio le tre maglie alte chiuse insieme quindi 1 2 e 3 e chiudo qui ho ancora 3 maglie alte chiuse insieme quindi faccio maglia alta catenella maglia alta catenella e maglia alta e qui chiudo proprio come mi richiede il mio motivo quindi qui avevo le 4 catenelle di inizio quindi il quinto giro di ripetizione se non mi sbaglio chiudo con un punto alto in modo tale che io possa avere la stessa coerenza nel lavoro e riparto come riparto con 123 catenelle e le tre maglie alte chiuse insieme quindi esattamente come farei se non avessi suddiviso il lavoro d'accordo quindi non vi fate ingannare dal fatto che terminate in maniera differente il motivo è identico e ora qui come vi avevo anticipato c'è un modo di apertura e di chiusura sempre uguale si parte con catene 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 punto alto catenella punto alto dove o questo chiudo con punto alto nella catenella e un punto alto sulla terza catenella del primo punto ok questa è la nostra chiusura sempre e anche la nostra apertura e ve lo ripeto si parte con 4 catenelle dall'altra parte avrete invece la chiusura in questo modo cioè maglia alta catenella maglia alta nello stesso punto e la chiusura con le due maglie alte quindi la maglia alta nella catenella e la maglia alta nell'ultimo punto ma è uguale perché ovviamente il lavoro è speculare dove qui finite di la iniziate nell'altro lato iniziate dove qui iniziate nell'altro lato finite però il lavoro non è differente qui abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme facciamo entrando bene 1 ricordate 1 catenella 2 maglie alta e senza catenelle la maglia alta nella terza catenella giusto quindi il lavoro è esattamente uguale soprattutto nella parte inclinata quindi riparto con le 3 catenelle e riparto con le 3 catenelle qui ovviamente devo ripartire come dal secondo giro vi ricordate quindi questa parte qui delle 2 maglie alte vicine la salto totalmente entro nella seconda maglia alta e dentro nella catenella finale e faccio le 3 maglie alte chiuse insieme vado veloce perché questo passaggio lo conoscete già di lavoro il motivo come lo conosco 3 maglie alte chiuse insieme 1 2 3 e a questo punto qui abbiamo iniziato con le 4 catenelle la maglia alta quindi maglia alta nella catenella e senza catenelle di separazione ma realtà ok io ho diminuito fino ad arrivare a 8 cm quindi continuo le diminuzioni ed è secondo me il modo migliore quindi riparto con le 4 catenelle e la maglia alta nello stesso punto sempre nello stesso modo lavoro tutto il motivo e qui dove abbiamo appunto quella quella situazione che ricordate abbiamo fatto le 3 maglie alte chiuse insieme dobbiamo chiuse insieme dobbiamo chiudere nella terza catenella del primo punto proprio come dice il motivo con un punto alto è un altro punto alto poi 123 catenelle giro il lavoro queste due maglie alte le salto direttamente e vado sulle 3 maglie alte chiuse insieme facendo un punto alto questo è il quarto giro di ripetizione catenella e punto alto e termino con la maglia alta nella catenella e la maglia alta sulla maglia alta cioè nella terza catenella del primo punto ovviamente contate io adesso non li ho contati perché vado un po a occhio ma non c'è problema ma contate i giri che avete fatto dall'altro lato vedete questo è quell'altro lato e devono essere uguali quindi vedete io sono ancora abbastanza indietro di poco non tantissimo mi mancano praticamente due giri quindi ripartiamo appunto con 1 2 3 4 e maglia alta sopra nello stesso punto qui praticamente abbiamo le tre maglie alte fatte con la maglia alta e questo come ci dice il nostro motivo dobbiamo fare semplicemente le tre maglie alte chiuse insieme così questo modo prendendo anche questa maglia alta e finisce in giro faccio le 3 catenelle 3 catenelle ora sono al sesto giro di ripetizione faccio un'altra maglia alta nello stesso punto poi ho le tre maglie alte chiuse insieme 1 2 e 3 e questa questa parte come al solito maglia alta nella catenella e maglia alta nella terza catenella tagliate il filo un pochino più lungo così poi lo userete per cucire tirate e chiudete io ho fatto una piccola modifica perché anche da questa parte l'avevo fatta così cioè non avevo più diminuito nell'ultimo giro non ho fatto la diminuzione ve lo volevo dire perché altrimenti venivano innanzitutto differenti e secondo poi mi veniva un pochino più stretta l'altra quindi per farle uguali nell'ultimo giro io non ho diminuito e vi do questo consiglio appunto che se vedete che avete bisogno di qualche centimetro in più andate avanti lavorando il punto esattamente come questo non pregiudicherà nulla sarà una scollatura un pochino differente meno scavata in cima ma viene bene lo stesso quindi ora ripartiamo dalla schiena agganciamo il filo per la schiena dove abbiamo il primo marcatore io lo aggancio sempre nello stesso modo voi regolatevi in base alla vostra abitudine e poi faccio sempre le due la catenella con le due codine e lascio da parte la codina più corta così ho bloccato e non ho fatto nodi faccio altre due catenelle che sono la maglia alta adesso vi faccio vedere io sono a questo punto se voi foste a questo punto dovreste fare le tre maglie alte chiuse insieme quindi però dovreste fare quattro catenelle tre maglie alte chiuse insieme è molto importante quello che vi sto dicendo perché perché in base al punto in cui siete dovete lavorare quindi se foste qui dovreste fare quattro catenelle e le tre maglie alte chiuse insieme se invece voi iniziate sulle tre maglie alte chiuse insieme fatte fate scusate quattro catenelle anche in questo caso e le tre maglie alte chiuse insieme qui e qui ho detto le tre maglie alte chiuse insieme ma mi sono sbagliata scusate dovete fare la maglia alta catenella maglia alta catenella quindi in base a dove vi trovate dovete continuare il punto affinché venga dritto è semplicemente questo io ora sono al punto in cui dovrei fare le tre maglie alte chiuse insieme però sono nel centro questo perché per i primi centimetri ho bisogno di questi centimetri non posso dire va bene inizio qua perché poi lascerei troppi pochi centimetri per la manica quindi semplicemente quello che faccio entro nella catenella e chiudo tutto insieme in modo tale da avere il punto diritto poi entro e faccio il punto esattamente come lo conosco quindi dove ho le tre maglie alte chiuse insieme faccio maglia alta questo questo è anche un po di buon senso non c'è bisogno di scusate non c'è bisogno di uno schema o un tutorial in questo caso la sua parte la codina so mi dà fastidio maglia alta catenella maglia alta catenella e maglia alta il punto va avanti uguale solo che cominciamo e finiamo diritti e non non rovescio e non storti e non in diagonale ora abbiamo il nostro punto molto semplicemente quindi continuate a lavorare tutto come deve essere nelle ma nelle parti davanti nei quarti davanti abbiamo fatto otto giri nella schiena faremo esattamente otto giri tutti lavorati in questo modo sta spuntando fuori il filo del primo gomitolo vi voglio far vedere quanto ha reso c'è ancora sono al primo gomitolo e praticamente penso che riuscirò a finire anche la schiena quindi veramente questo è un filato che rende molto molto bene finito il mio lavoro ho le tre maglie alte chiuse insieme faccio una catenella e nell'ultimo punto marcato faccio un punto alto nel caso voi aveste iniziato a differentemente come vi avevo detto prima dovreste terminare con il punto alto cioè se voi aveste qui le tre maglie alte separate da una catenella avreste dovuto terminare il lavoro con una maglia alta senza la catenella se terminate come me con le maglie alte chiuse insieme fate la catenella e poi il il punto alto in questo caso poi se voi aveste avuto il ventaglio avreste dovuto iniziare il lavoro con le quattro catenelle mentre io che non ho il diciamo che devo fare il ventaglio inizio con 3 catenelle 1 2 3 come se fosse una semplice maglia alta spero che questo vi sia chiaro se no chiedete pure poi nei commenti 3 catenelle inizio lavoro con appunto maglia alta catenella maglia alta catenella e maglia alta fate tutto il motivo come lo conoscete quando arrivate a questo punto dove avete la maglia alta le due maglie alte qui praticamente voi terminate di nuovo con le tre maglie alte chiuse insieme fate la catenella è semplicemente una maglia alta le due maglie alte servivano solo per partire ora dovrete fare una sola maglia alta nella terza catenella magari ve lo faccio vedere vi rifaccio vedere l'inizio e poi vi lascio andare avanti per gli altri giri da sole in questo caso io le maglie alte chiuse insieme che sono due praticamente più la terza che sono le 3 catenelle quindi quello che andrò a fare e entrare nel punto in cui dovrei avere queste maglie alte chiuse insieme considerate che noi dobbiamo avere una linea linea deve essere lineare quindi faccio maglia alta catenella e maglia vita si rimane diritto a questo punto per ripartire 123 adesso dopo questa parte è una maglia alta e poi il motivo finiamo con una maglia alta vedete basta un po adattare il lavoro e si riesce ad ottenere ciò che si vuole è tutto dritto perfetto comunque vi lascerò gli schemi io ce li ho ce li ho recuperati da da pinter quindi andate avanti adesso per i vostri otto giri o dieci o quelli che siano i miei sono otto quindi io finirò questi otto giri e poi andrò a cucire vedete già si ne vede questo è lo spazio della manica vedete del sottoscella e poi andremo a cucire le nostre maniche e il cardigan scalda cuore come lo vogliate chiamare sarà pronto ed è veramente una delizia guardate questo è come sta bene fuori molto molto bello davvero ci vediamo dopo ho finito anche il corpo della blusa e adesso semplicemente dobbiamo piegare il lavoro così così spero si veda sia da una parte che dall'altra e cucire ricordate avevamo lasciato un po di filo in più quindi usiamo lo stesso filo prendiamo un ago da lana è semplicemente iniziamo a cucire i punti punto su punto prendendo entrambe le catenelle ok e questo è l'ultimo cercate di prendere bene la catenella mi facciamo anche un paio in più c'è un modino e questo è il cucito adesso poi io lo lascio così un po lunghetto perché poi lo vado a nascondere nel lavoro vedete ora semplicemente va fatta la stessa cosa dall'altro lato io io ho e anche qui come vedete è semplicissimo lasciamo un po di filo lungo per andarlo a nascondere ora giriamolo al diritto praticamente ora già si intende bene quello che abbiamo fatto la cintura che chiude adesso dobbiamo recuperare le maglie per fare le maniche la condizione per il recupero delle maniche in lavorazione in tondo e che sia un multiplo di 6 senza il più 2 perché noi inizieremo e finiremo con il motivo senza le maglie alte di supporto che invece servono nella nella lavorazione a pannelli quindi multiplo di 6 io ho già recuperato le mani le maglie di questa manica e ne ho 42 ora andrò a fare la stessa cosa di qua con voi per farvi vedere come ho fatto cominciamo subito agganciandoci io di solito mi aggancio o dove ho la cucitura della però potrebbe vedersi o nell'ascella e lo facciamo nell'ascella quindi andiamo qui proprio qui e creiamo la base per il nostro motivo come la creiamo facendo semplicemente un giro di punti alti come al solito io lavorerò la prima maglia alta con entrambe le codine in questo caso che dovrò chiuderci sopra ho preferito fare tutte e tre le catenelle con entrambe le codine ma poi fate voi e ora semplicemente qui ho punto su punto perché ho il punto alto tanto conto 3 4 5 6 intanto fermato anche la codina poi sulle maglie tre maglie chiuse insieme ne faccio una sette ovviamente il punto è un punto aperto è un punto che ha degli spazi quindi non importa se tra un punto e l'altro avrete degli spazi 7 ora su tutte le 3 catenelle che mi trovo da questa parte il punto alto lavoro due punti alti quindi 8 9 mi hanno dato il filo 9 10 10 11 13 qui ho un punto alto piuttosto visibile quindi lo lavoro 14 15 15 16 è andata avanti così 17 18 un po sentimento vi dico la verità in base anche alla larghezza di cui avete bisogno perché se avete bisogno di stringere un po il lavoro questo è il momento buono fate un po meno maglie alte non ve lo vieta nessuno se invece vi è venuta un po troppo stretta la manica potete darle qualche punto in più di punto alto perché come vedete avete libertà di di scelta per esempio io qui ne faccio un altro voglio una manica che sia bella larga perché deve essere comoda da poterla indossare anche con una maglietta sotto quindi se la manica per me è troppo stretta poi mi dà fastidio qui faccio un bel punto alto ormai non le sto contando più ma poi le riconto qui faccio uno e qui ne faccio due in questo modo vi volevo far vedere semplicemente che basta andare un po sentimento in base anche a quello di cui avete bisogno continuate e poi vi faccio vedere come si fa il motivo al in lavorazione in tondo perché poi faremo giri di andate e ritorno proprio per evitare che si noti l'incongruenza con il motivo e poi abbiamo finito praticamente fatto l'ultimo punto alto chiudete nella terza catenella del primo punto con un punto bassissimo e girati il lavoro ed ora facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto quando siamo passati dalla cintura a realizzare il punto vi ricordate facciamo proprio la stessa cosa partiamo in questo caso subito con quattro catenelle 4 nello stesso punto dove avete chiuso il lavoro fate un'altra maglia alta una catenella è una maglia alta saltate un punto di base quindi questo lo saltate andate nel prossimo fate una maglia alta non chiusa andate nel prossimo fate una maglia alta chiusa a metà non chiusa andate nel prossimo e fate una maglia alta chiusa a metà chiudete tutto insieme e catenella saltate un punto di base nel prossimo maglia alta catenella nello stesso punto altra maglia alta catenella nello stesso punto altra maglia alta fino ad arrivare a tre ora saltiamo un punto di base nel prossimo facciamo le tre maglie alte non chiuse la prima la seconda nel punto successivo la terza nel prossimo punto e chiudiamo tutti insieme andate avanti così fino alla fine che vi faccio vedere come finire e ricomincia fatto l'ultimo tre maglie alte chiuse insieme mi avanza un punto di base mi chiudo nella terza catenella del primo punto alto ok e faccio un punto bassissimo adesso girando il lavoro ci troviamo le tre maglie alte chiuse insieme quindi dobbiamo ricominciare ancora con 4 catenelle e nello stesso punto fare una maglia alta una catenella e una maglia alta non c'è niente di più facile che fare queste maniche ovviamente io poi a metà più o meno vicino al gomito vedrò se è il caso di stringere un po o meno e ve lo farò sapere ora come vedete sto andando avanti con il motivo e non c'è niente di più semplice che fare queste maniche quindi voi adesso andate avanti quando arrivate alla fine chiudete col punto bassissimo girate il lavoro mi raccomando perché altrimenti si noterà la differenza con il corpo e proseguita ho finito entrambe le maniche e questo è il risultato io le ho fatte abbastanza larghe e anche abbastanza lunghe ovviamente come vi avevo già detto regolate in base a come vi piace per farle un pochino più strette basterà montare meno maglie alte sempre con un multiplo di 6 e il gioco è fatto alla fine però ho fatto un bordo per rifinire di un semplice giro di punto basso non lavorando tutti i punti ma semplicemente l'ho fatto in modo tale che con i lavaggi non vada ad allargarsi la manica esageratamente soprattutto nel fondo quindi ho lavorato un punto basso ogni punto alto saltando le catenelle e un punto basso per ogni gruppo di tre maglie alte chiuse insieme è semplicemente venuto così e vi dirò il risultato è davvero molto bello adesso io in telecamera non riesco a farvelo vedere completo però ve lo mostrerò poi alla fine anche indossato ora il nostro cardigan praticamente finito volendo sarebbe solo da lavare bloccare e indossare io però voglio definire il bordo vedete non lo vedo ben definito quindi andrò a fare anche in questo caso forse due o barra quattro giri di punto basso ma come al solito io le finiture le faccio strada facendo guardando come viene in questo caso se faccio quattro giri ovviamente riprendo il punto del della cintura quindi lo farò a in costa retro e vediamo subito come prendiamo il filo e ci agganciamo ne proprio nel primo punto vedete qui nel primo punto dei di un bordo di un di un lato ok facciamole sola solita catenella con la doppia codina ovviamente io giro il lavoro perché sono così nella maglia alta ne avremo tutte queste queste maglie alte che sono le catenelle o maglie alte finali andiamo se anche qui a sentimento quindi la codina la lasciamo da parte approfitto anche per bloccarla e farò dei punti bassi normali che 2 su ogni punto alto e 3 2 3 4 5 5 6 8 8 9 e andate avanti così per tutto il contorno quindi fino a questo punto ovviamente nel collo avrete i punti esattamente come li avete lavorati quindi dove avete i tre punti alti separati da una catenella andrete a fare un punto alto per ogni punto vedete e nel punto dove avete le tre maglie alte chiuse insieme semplicemente entrate e fate un punto basso dopo di che c'è il punto alto lo lavorate lavorate la catenella in modo tale che non stringa il lavoro perché se fate come nella manica come avete potuto vedere il lavoro stringe leggermente invece no deve essere morbido e deve rimanere esattamente come come era quindi regolatevi proprio nel collo nei punti che avete e li lavorate punto su punto alla fine per evitare che vi venga questa forma di scalino mi raccomando entrate nell'ultimo punto fate il punto basso e poi in quello successivo fate un punto bassissimo per girare il lavoro allora guardiamolo guardiamo come viene lo blocco momento per evitare che si sfili con un giro di bordo già abbiamo un pochino definito la parte appunto visibile io un altro giro lo farei e lo facciamo a in costa retro esattamente come abbiamo fatto la cintura quindi semplicemente ora qui siamo entrati con il punto bassissimo giriamo il lavoro non fate catenelle entrate nel primo punto senza catenelle e lavorate la costa retro appunto basso semplicemente così come abbiamo fatto per la cintura che vedete che non viene lo scalino ed è tutto ben definito adesso continuate così tutto il giro e dopo ci diamo un'altra occhiata per decidere se andare avanti oppure no o fermarci al secondo giro in base a come esteticamente ci sembra anche in questo caso in questo giro lavorato l'ultimo punto qui fate un punto bassissimo per evitare lo scalino lo ricordatevelo qualunque numero di giri abbiate deciso di fare per il bordo ricordatevi sempre l'ultimo punto sia da un lato che dall'altro deve essere un punto bassissimo e quando poi ricominciate il giro lo ricominciate senza fare catenelle quindi andando direttamente sul punto questo vi evita lo scalino e dover poi riprendere anche la cintura eccetera eccetera allora io direi che mi fermo anche perché se non mi fermassi dovrei adattare anche la cintura perché ovviamente sarebbe un po incongruente con quello che è sotto poi c'è sopra non so se mi spiego però per me è sufficiente questo bordino fatto così proprio adesso lo guardiamo un attimo vedete questo poi lavato bloccato è semplicemente una rifinitura maggiore particolare rispetto al solito se volete andate avanti un altro giro ci sta un altro giro ci starebbe in realtà però io mi fermo quindi non ci resta che lavarlo bloccarlo indossarlo ci vediamo al video finale ed eccoci alla ripresa finale finalmente posso mostrarvi lo scal da cuore in tutte le sue angolazioni è indossato non ho molto altro da dirvi rispetto al video perché veramente vi ho detto tutto anche come fare delle modifiche in base a dei gusti differenti dei miei come per esempio il bordo se lo volete fare più più ampio quindi che vi copra di più la spalla oppure le maniche più strette basterà montare meno maglie alte e magari cominciare a dividere il lavoro un po più in alto non è difficile mantenete sempre la costante del multiplo di 6 quando andate a fare le maniche e per il resto veramente ve lo potete modificare come più vi piace io ora l'ho legato qui nel fianco ma ovviamente vi voglio far vedere come anche vedete è questo è fatto così quindi volendo si può legare anche dietro in base a uno come preferisce facciamo un piocchetto o un nodo quello che preferite un nodo cravatta insomma quello che preferite voi e il vostro scaldacuore da portare sempre dietro in ogni stagione perché abbiamo fatto veramente un evergreen è pronto altro non ho da dirvi ve lo volevo solo mostrare volevo chiedervi per favore di iscrivervi alla pagina ma solo facebook che vi metterò nelle info box il link solo per vedere poi i vostri lavori realizzati seguendo i miei tutorial e per il resto se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale perché ho tantissimi altri progetti in mente per per voi il filato usato è il madesimo che ha tantissimi altri colori ed è davvero fantastico da lavorare da indossare non pizzica per niente è un po pelosetto ma già dopo il primo lavaggio visto che la fibra è come se si fissa quindi non vi preoccupate e anche la lavorazione è molto veloce e rapida perché si lavora con un uncinetto piuttosto alto quindi seguite il tutorial fatelo e fatemi vedere il vostro lavoro finito lasciatemi un like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale perché presto arriverà un altro bellissimo progetto grazie a tutte di seguirmi e ci vediamo prestissimo